Denunciata la locale procura della Repubblica dalla Polizia di Stato il titolare di un locale a San Cataldo per il reato di somministrazione di alcolici a minori. I poliziotti della divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta hanno effettuato durante il weekend controlli in diversi esercizi commerciali, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell'assunzione di alcol da parte dei minori. I poliziotti recatisi all'interno dell'esercizio commerciale San Cataldese munito di regolare licenza per intrattenimento danzante avrebbero notato un mancone nel quale si somministravano bevande alcoliche e un assembramento di giovani in fila per l'acquisto delle bevande alcoliche per l'appunto, senza che la persona preposta alla vendita e somministrazione richiedesse un documento per verificarne l'età.